Se parliamo del tratto a monte dell'autostrada, sì, dovrebbe essere finanziato, riconosciuto dalla regione un danno per il maltempo ultimo che abbiamo avuto nel 2015, quindi quello di marzo. Noi abbiamo segnalato quella erosione della volena fluviale come tra i danni maggiori ricevuti durante quell'alluvione, quindi la regione dovrebbe nel breve trovare i fondi per finanziare questo danno. Quindi si parla di quanto? Un anno di tempo circa? I tempi dovrebbero essere quelli all'incirca perché comunque c'è da produrre tutta la documentazione progettuale, autorizzazioni, tutto, quindi dobbiamo mettere in conto più o meno per l'anno prossimo.